Edilizia Sicura! Prendi a cuore la sicurezza. Su ETV riprende Edilizia Sicura, la trasmissione sulla sicurezza nel lavoro, come non farsi male nel lavoro e nel fai da te, sulle innovazioni tecnologiche e sulle novità legislative, nuove rubriche, interviste a esperti e cartoni animati. Dal giovedì alla domenica, Edilizia Sicura. E usare...